A Regalbuto arriva l'Odissea, sicuramente un avversario tosto. Come si può fare a vincere contro questa grande formazione? È una squadra che rispetto all'andata ha preso altri giocatori forti, sono terzi in classifica non per caso. Noi giocheremo come sempre, presteremo tutto campo, dovremo correre perché comunque la corsa è la nostra arma in più, dovremo comunque giocare bene, anche la tattica sarà importante e anche la difesa più che altro sabato sarà fondamentale. Giocheremo per vincere e vedremo, speriamo. Stiamo arrivando alla fase clou della stagione, sicuramente molto importante sarà con l'Under 21 la Final 8, che ormai è a un passo, possiamo dire che la Lubrisola l'ha già conquistata. Dove può crescere ancora questa squadra a margini di miglioramento? Beh, sicuramente ancora possiamo crescere, possiamo migliorare, anche mantenere la concentrazione per 60 minuti, sempre, non mollare mai in ogni momento della partita perché il calcio è così, quindi da un momento all'altro può succedere di tutto, quindi dobbiamo migliorare soprattutto adesso sull'aspetto mentale comunque.